La plastica del tuo quad o della tua moto da cross è diventata ruvida e sbiadita? È l'effetto dell'ossidazione e invecchiamento della plastica. Puoi rinnovare al meglio possibile il colore originale e togliere l'ossido solidificato e ruvido applicando RS con la parte abrasiva di una spugnetta per lavare i piatti. Per ottenere il miglior risultato possibile, devi applicare il prodotto ad una buona temperatura ambiente. Per ottenere una finitura molto lucida, quando l'assorbimento di RS è terminato, puoi procedere con un'applicazione molto leggera di uno spray acrilico trasparente. Il risultato può essere variabile conseguentemente alla qualità del pigmento. Se il pigmento è completamente evaporato, è impossibile rinnovarlo. RS è un rinnova plastica multifunzione dalle caratteristiche uniche e brevettate che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Grazie a tutti.